Allora ragazzi, c'è poco da dire, poco da fare, poco da commentare, poco da aggiungere. Io vi giuro ancora mentalmente, mentalmente ancora non riesco a capacitarmi del fatto che il prossimo anno ai mondiali l'Italia non sarà neanche, neanche ai gironi. Veramente io ancora non riesco a pensarci che non siamo riusciti a superare e a battere la Svezia. Una squadra scandalosa, una squadra ridicola. Io ci sto pensando, a pensare che ai mondiali ci saranno squadre del calibro di Peru, Panama, Corea del Sud, Camerun. Queste squadre saranno ai mondiali, una squadra vincitrice di quattro mondiali non ci sarà. Una squadra che ne ha vinti di meno solo rispetto al Brasile non sarà neanche ai gironi. Allora ragazzi, prima di parlare bene di questa partita, bisogna dire una cosa. Non riuscire a fare neanche un gol contro la Svezia in 180 minuti è una cosa francamente ridicola. Poi possiamo dire quello che vi pare. Possiamo dire che oggi non sono stati fischiati cinque rigori, quattro rigori e due per parte, che all'andata c'è di sfortuna con l'ingol subito. Tutto quello che vi pare. Però una squadra come l'Italia, nettamente più forte dal punto di vista tecnico rispetto alla Svezia, doveva quanto meno fargli un gol. Io non pretendo che dovevamo vincere 5-0 all'andata e 6-0 al ritorno. Un gol dovevamo fare. Purtroppo continuiamo con la nostra media disastrosa di un gol fatto in sette partite consecutive. Non siamo riusciti a fare più di due gol nelle ultime sette partite. E gli avversari non mi venite a dire che erano avversari clamorosi, eh. Macedonia, la Svezia, la Svezia ragazzi. Oh, adesso me la vogliono far passare come squadra tosta, tenace, ci ha messo grinta. Ma grinta di che? Una squadra clamorosa, una squadra ridicola. Una squadra veramente ridicola. In questa partita le abbiamo dominati dal punto di vista offensivo. Qual è il problema però, come abbiamo detto, che non segniamo. Abbiamo messo tutti i peggiori attacchi, attaccanti a parte in signe, peggiori nel senso tutti gli attaccanti disponibili. Non siamo riusciti a fargli un gol. Abbiamo messo immobile Belotti, Bernardeschi, Florenzi che comunque è offensivo, Candreva, Esciarao. E non siamo riusciti a fare neanche un gol contro la Svezia. Questa è una cosa che io non capisco. Questa è una cosa che io non capisco perché va oltre l'indecenza di Ventura, l'indecenza di tutta la FGC, di tutti quanti. Questa è una cosa che va oltre. Veramente. Poi, parlando un attimo di Ventura, in questa partita non gli posso dire niente. Perché comunque ha messo i fatti cambi giusti, i fatti cambi giusti. Ma è lui, il colpevole di... perché per essere arrivati a questo punto, il principale colpevole è lui. Io veramente, non è ammissibile che sono i giocatori stessi che dicono a Ventura quel che devono fare. L'assistente di Ventura va a dire a De Rossi, forza cambiti che devi entrare. De Rossi dice, ma che cazzo fa entrare a me? Fa entrare in signe. De Rossi deve dire all'assistente di Ventura i cambi che deve fare. Ma dove siamo arrivati? Veramente. Un allenatore indegno, incapace, non sa quel che fare. I giocatori si comandavano da soli, si vedevano lontano 100 km che i giocatori giocavano da soli. Giocavano soltanto per azioni fatte, per loro decisioni. Non era che l'allenatore diceva, vai di lì, vai su, vai giù. È stato tutto il tempo, fermo come un salame, a guardare, a guardare per terra, guardare a sinistra, guardare a destra, sconsolato, tira giù. Ma che cazzo fai? Veramente, io, questo, l'unica cosa positiva è che peggio di così non possiamo fare. È l'unica cosa positiva. Non ci potrà essere un momento in cui faremo peggio. Anzi, peggio sarà che non ci qualificheremo proprio neanche attraverso i gironi, neanche i playoff a fare. Questa sarebbe l'unica cosa peggiore di quello che abbiamo visto adesso. Poi, per carità, facci complimenti alla squadra che ci ha provato fino all'ultimo. Ci abbiamo messo tutto il possibile, veramente. Io penso che i giocatori adesso, in spogliettori, sputeranno i polmoni da quanto hanno corso, soprattutto Florenzi, per quanto ha sbagliato alcuni tiri, ha corso come un pazzo, come un pazzo, come solo l'uso a fare. Tutta la squadra si è impegnata molto. Qual è il problema, però? Non siamo... Cioè, abbiamo avuto alcune occasioni per segnare, ma non siamo riusciti a farlo. È quello il punto. Di testa, sempre anticipati. Cross, sempre raso terra, quasi sempre sbagliati. È questo il problema, perché se tu mi sbaglii cross con una squadra che l'unica cosa positiva che ha è avere difensori alti due metri e mezzo, e allora non riesci a segnare. Poi ci abbiamo avuto sfortuna, e il tiro di Asherahui parato, e queste cose così, che oggi abbiamo fatto 27 tiri e loro 4 tiri, 27 tiri a 4 e non siamo riusciti a segnare, quello ci può stare tutto. Però, tu comunque dovevi segnare, indipendentemente da tutto, indipendentemente dalla sfortuna, tutto, tu la palla la dovevi mettere dentro. E basta. Non voglio aggiungere altro, veramente, io non voglio aggiungere altro. Poi, arbitraggio. Un arbitro che, vi giuro, non ne ho mai visto in giro uno più scarso di lui. Un arbitro indegno, in generale, mica solo a favore nostro, a sfavore nostro. Quattro rigori è riuscito a non dare quest'arbitro. Quattro rigori, due per noi e due per loro. Quattro netti! Non cadere, eh, ci poteva stare, tocchettino. Quattro netti! Veramente, che la mossa dopo mi volete dire che non serve il bar anche in nazionale. Mamma mia ragazzi, è una roba, io vi giuro, non ho mai visto una cosa del genere. Quattro rigori in 90 minuti e non ne ha dato neanche uno. Poi voglio vedere se avessimo segnato il primo, come sarebbe andata la partita, però quattro rigori non le ha dati. Arbitro che si è rivelato incapace, indegno e inadatto per l'importanza di questa partita. Solo questo voglio aggiungere. Faccio un applauso ulteriore agli 80.000 tifosi di San Siro che sono stati monumentali, monumentali. Gli unici che si meritano veramente un grandissimo applauso perché hanno incitato, ussofferto, urlato dal primo al 95esimo minuto. Sono stati veramente eroici, veramente bravissimi a tutti i tifosi che hanno inneggiato fino all'ultimo secondo quasi a voler spingere loro la palla dentro la porta. Cosa che purtroppo non è successa. Quindi noi veniamo eliminati. Se io ripenso al gol che hanno fatto all'andata, veramente io non ci puoi pensare, non ci puoi pensare perché sennò, mamma mia, mamma mia. Siamo usciti con un gol deviato. Basta, basta, basta. Adesso cerchiamo di ripartire da questo momento. Cerchiamo di quantomeno ripartire e non affossarci ulteriormente. Prima cosa, via, Ventura non ha proprio, non si deve far più vedere, deve proprio cambia faccia, deve cambiare. Se deve mettere una maschera, deve andare in giro sempre con una maschera, non si deve più far vedere in giro. Prima cosa, prima di tutto. Seconda cosa, dai la squadra a un allenatore capace che la faccia rialzare nel minor tempo possibile. È difficile perché adesso per i mondiali altri 4 anni bisogna aspettare, anzi 5 perché il mondiale tra un anno o il prossimo sarà tra 5 anni. Però nel frattempo diamo la squadra a uno competente e facciamogli avere un minimo di gioco. Solo quella. Questa partita si è visto comunque un po' di gioco, un po' di grinta, però questa non è la verità. Una squadra che fa 0 gol contro la Svezia non è la verità. Con un livello tecnico ottimo perché la squadra, per me questa rosa era molto più forte di quella di Conte, ma molto più forte. In quella di Conte giocava Tiago Motta, Pellè, Desciglio, Zaza. Qua c'avevamo tutti i migliori italiani che c'erano in giro e non vi potete dire di no e siamo riusciti a uscire dal mondiale. Fate voi le vostre conclusioni, fate voi le vostre colpe, quello che vi parlo. Non c'è nient'altro da dire. Alzo le mani e basta. Buonanotte a tutti ragazzi. Sempre Forza Italia, sempre Forza Roma, Forza Italia. Tanto è uguale, tanto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.